Andiamo nelle aree colpite dal terremoto in Umbria a Eggi, una frazione di Spoleto. Tutti i residenti hanno lasciato le case, si stanno organizzando per superare questa emergenza. C'è una tendopoli autogestita. Sentiamo Serena Scorzoni. Sì, buongiorno da Eggi. Noi allora entriamo proprio in questa parte della tendopoli, come dicevate, una comunità che si sta autogestendo. È il momento quasi del pranzo. Le signore e le ragazze apparecchiano. Questa è proprio la sala mensa e la comunità di Eggi, dunque, per affrontare questo difficile momento del post-sisma. Sta utilizzando queste strutture con Francesca Gernini. Andiamo anche a vedere un po'. Sta utilizzando queste strutture in muratura, che sono quelle già esistenti da prima, organizzate dalla Proloco. Poi, come vedete, ci sono anche le casette di legno. In alto la tendopoli, dove vivono i ragazzi, dove stanno affrontando queste giornate. E ovviamente ci sono i presidi della protezione civile, l'Associazione Nazionale dei Carabinieri. In questa parte dormono proprio le persone anziane. Sono state portate le brandine dalla protezione civile. e noi entriamo ora, perché dunque è quasi ora di pranzo, entriamo a vedere perché le signore sono all'opera. E allora vediamo... Signore, buongiorno, siamo in diretta. C'è qualche difficoltà, Serena Scorzoni, nel collegamento, anche se vediamo delle immagini che arrivano dalle aree colpite dal terremoto. Torniamo allora all'elezione.